Il termine taint equivale alle tracce che una transazione Bitcoin lascia nel corso del proprio viaggio. La taint analysis di una transazione Bitcoin valuta quindi l'associazione tra un indirizzo e di precedenti indirizzi coinvolti in transazioni. Maggiore è il numero di taint, più forte è il collegamento tra i due indirizzi. È molto importante quindi sforzarsi di non riutilizzare più volte gli indirizzi ed evitare di crearne dei collegamenti. Teniamo a mente alcuni punti chiave della taint analysis. 1. La taint analysis non è in grado di tracciare la correlazione tra gli indirizzi di origine e gli indirizzi di arrivo quando i coin sono mixati. 2. I principali mixer Bitcoin rimuovono con successo dati di identità finanziaria della blockchain, ma introducono ulteriori dati comportamentali che potrebbero identificare gli utenti che ne fanno uso. 3. I singoli servizi di mixing possono essere riconosciuti e tracciati in base alle proprie uniche tecniche di mixing di Bitcoin, rendendo inutile il processo stesso. Effettuare una taint analysis per un utente medio oggi è molto difficile. Fino all'inizio 2017 il sito blockchain.info, di proprietà del noto early adopter Roger Weir, aveva una funzionalità apposita per effettuare la taint analysis all'indirizzo blockchain.ifo.taint. Purtroppo oggi questa funzionalità non è più presente, molto probabilmente causa di pressioni da entità terze che hanno deciso di fermare tale funzionalità ampiamente usata da criminali per assicurarsi che non ci fosse alcun legame tra i propri indirizzi. Oggi è comunque possibile, anche se con maggior difficoltà e con un'interfaccia meno user-friendly, di effettuare taint analysis di indirizzi. Alcuni servizi gratuiti per la taint analysis includono Bitodyne, LearnMeatBitcoin, BitcoinClass e WalletExplorer. Nel corso degli anni sono inoltre nate società ad hoc per effettuare taint analysis di indirizzi. I clienti principali di tali società sono istituzioni finanziarie, exchange e governi. I più famosi a pagamento includono Chain Analysis, Elliptic, Quantabytes e Bitfury. Una menzione particolare va a Neutrino, che è un servizio di taint analysis italiano creato dagli stessi fondatori di Hacking Team, nota società milanese che vendeva servizi di intrusione offensiva e di sorveglianza a moltissimi governi, organi di polizia e servizi segreti di tutto il mondo. Sono stati costruiti rapporti e relazioni anche a diretto riporto del Presidente degli Stati Uniti d'America, lavorando con NSA, CIA ed FBI. Ma perché la taint analysis? Le società che offrono questi servizi solitamente motivano tali che, ripetiamo, sono altamente invasivi della privacy finanziaria dalle persone per tracciare fondi di origine criminali o rubati, per effettuare indagini su ransomware, per analizzare utenti e transazioni che avvengono nei mercati darknet e da fini antiterroristici. C'è da ricordare però, purtroppo, che tale spionaggio non avviene solo a scopi di sicurezza, ma anche di pura e mera sorveglianza di massa. Poiché ogni transazione esiste su una blockchain pubblica e trasparente, un'organizzazione intraprendente come l'NSA o l'IRS potrebbe tranquillamente implementare strumenti di taint analysis per rintracciare i trasferimenti di Bitcoin in tutto il mondo. Ad oggi, la maggior parte delle transazioni Bitcoin sono originate da exchange trusted che esistono ed hanno sede legale in paesi occidentali, dove i governi hanno sempre trovato metodi nuovi ed innovativi per garantire che i cittadini non avessero alcuna privacy, specialmente quando si tratta di finanze personali. Inoltre, la maggior parte degli exchange oggi richiede documenti di informazioni personali e che dovrebbero rimanere private come la patente di guida, il passaporto, fino ad arrivare a foto e numeri di telefono. Allo stesso tempo, sono obbligati a condividere informazioni finanziarie degli utenti con agenzie esterne. Per provare tutto ciò, nella versione scritta di questo corso potrai trovare un contratto tra chain analysis e l'IRS, ovvero l'internal revenue service, la relazione tra chain analysis e Binance, la relazione tra Coinbase e l'IRS americano e la relazione di scambio di dati privati tra Coinbase e Barclays Bank. Interessante è il tweet pubblicato il 5 gennaio 2019 dall'exchange Kraken, che mostra il numero di richieste di dati effettuate da agenzie governative e private di tutto il mondo nel solo 2018 verso l'exchange stesso. Come puoi notare da questo screen, l'Italia, solo per l'exchange in questione, ovvero Kraken, ha richiesto dati sugli utenti 6 volte. Stessa sorte per Shapeshift, noto exchange e payment processor, che il 18 gennaio 2019 sulla scia di Kraken ha pubblicato sul proprio blog un riassunto delle richieste di dati avanzate nell'arco di tutto il 2018. Potremo continuare a fare esempi del genere per ore. Non ci soffermeremo troppo sull'argomento in ogni caso, in quanto ancora più importante e paurosa è la risposta data da Kraken al tweet di un utente che ha chiesto, ma nessuna richiesta da parte di CIA o NSA? E Kraken, quando hai già tutti i dati, non è necessario richiederli. E dopo questa introduzione, passiamo al capitolo successivo. L'NSA spia la rete Bitcoin dal 2013 Che agenzie nazionali e private tengano sotto stretta osservazione alla rete Bitcoin è ufficiale e comprovato dal 2013 dal noto whistleblower Edward Snowden. In un rapporto pubblicato d'inizio 2018 su The Intercept, il giornalista Sam Biddle ha citato diversi documenti inclusi nell'enorme quantità di documenti rubati e condivisi al gruppo di proprietà dell'NSA che hanno dimostrato contro ogni ragionevole dubbio che l'agenzia monitora attivamente gli utenti Bitcoin dal 2013 e sta potenzialmente condividendo parte di queste informazioni ad altri governi ed agenzia. Utilizzando la propria capacità di sniffare i dati direttamente dai cavi in fibra ottica, l'NSA è riuscita a sviluppare un sistema per tracciare transazioni che andava ben oltre la semplice taint analysis della blockchain. L'agenzia si basa infatti su un programma chiamato Monkey Rocket. I documenti indicano che il tracciamento degli utenti di Bitcoin è andato ben oltre l'esame approfondito nel registro delle transazioni pubbliche di Bitcoin dove, come abbiamo spiegato in precedenza, gli utenti sono pseudo-anonimizzati. Il tracciamento si spinge alla raccolta di dati fino ad arrivare ai device utilizzati per inviare o ricevere Bitcoin. Se hai utilizzato Bitcoin da 2013 ad oggi sei ufficialmente entrato nella lista dei Bitcoin Target. Benvenuto nel club, amico mio! A partire dal 2013 il tracciamento dei Bitcoin da parte dell'NSA è stato realizzato attraverso il nome in codice OXTAR, una raccolta di partnership aziendali segrete che consente all'agenzia di monitorare le comunicazioni raccogliendo i dati via internet mentre viaggiano lungo i cavi in fibra ottica che si trovano su tutto il nostro pianeta. Nello specifico l'NSA ha preso di mira Bitcoin attraverso Monkey Rocket un sottoprogramma di OXTAR che ha sfruttato le apparecchiature di rete per raccogliere dati dal Medio Oriente dall'Europa dal Sud America e dall'Asia. A partire dalla primavera del 2013 Monkey Rocket è stata l'unica fonte di SIGDEV per i Bitcoin Targets. Secondo il rapporto dell'NSA del 29 marzo 2013 usando il termine per lo sviluppo dell'intelligence dei segnali SIGDEV per indicare che l'agenzia non aveva altro modo di sorvegliare gli utenti di Bitcoin. I dati ottenuti tramite Monkey Rocket sono descritti nei documenti come sorveglianza full take ovvero l'intera serie di dati che passano attraverso una rete viene esaminata e successivamente archiviata per un'analisi successiva e più profonda. Ah, a proposito le tanto amate privacy coin come Monero Zcash eccetera non si salvano da questo tipo di attacchi. Per natura la rete Bitcoin non raccoglie informazioni personali crea invece una rete pseudonima assegnando casualmente le chiavi pubbliche ovvero gli indirizzi Bitcoin per identificare gli account e le chiavi private per convalidare le transazioni. Per evitare il double spending di Bitcoin le transazioni non autorizzate e frodi da parte dei miner la rete trasmette un libro mastro noto come blockchain. Questo libro mastro contiene i dettagli di ogni transazione condotta dall'inizio di Bitcoin. Anche se i dati registrati in blockchain non rappresentano direttamente una minaccia per l'anonimato possono essere aggregati ed associati ad informazioni aggiuntive per creare collegamenti tra identità reali. Con ciò in mente i servizi di Mixing vengono valutati in base alla capacità di nascondere quattro tipi di dati di identità ovvero personale comportamentale finanziario e di rete. Dati di identità personale sono informazioni che collegano un account o una merce acquistata online a un'identità del mondo reale. Questi dati vengono spesso raccolti durante la registrazione dell'account e includono informazioni come nome indirizzo email data di nascita e codice fiscale. Anche se solitamente vengono condivisi con consapevolezza e manualmente servizio per servizio possono essere estrapolati da servizi e account collegati. dati di identità comportamentale ovvero modelli di navigazione prevedibili osservati durante una sessione online. Questi dati vengono spesso confrontati con i dati raccolti da altri utenti e confrontati con gli accessi precedenti per determinare comportamenti anomali. In questo caso parliamo del comportamento dei servizi di mixing invece che del comportamento dell'utente finale. Il comportamento del servizio di mixing include principalmente gli schemi di trasferimento. Ad esempio il ritualizzo di indirizzi l'analisi del tempo delle transazioni ed il saldo delle differenze. Dati di identità finanziaria ovvero dati utilizzati per facilitare i pagamenti compresi i numeri di conti finanziari gli importi delle transazioni e di saldo dei conti. Per Bitcoin queste informazioni includono indirizzi Bitcoin e tempi di transazione. Per limitare tali dati non relativi a Bitcoin si può optare di acquistare Bitcoin su localbitcoins.com utilizzando carte regalo prepagate. Dati di identità di rete ovvero informazioni utilizzate per identificare in modo univoco i dispositivi che comunicano su internet. Questi dati includono indirizzi IP configurazioni del browser e cookie. Tutti i browser Tor in questo caso sono uniformi riducendo la possibilità di identificazione univoca basata sui dati di rete. L'attenta analisi risulta difficile se vengono utilizzati i metodi di miscelazione riportati nel prossimo capitolo. I servizi di mixing possono effettivamente interrompere il collegamento diretto tra gli indirizzi di origine e quelli di riduzione e eliminare con successo dati identificativi personali e finanziari dai Bitcoin. Tuttavia per assurdo l'utilizzo di un servizio di mixing Bitcoin aumenta contemporaneamente il numero di punti identificativi e comportamentali individuabili. È infatti possibile individuare tecniche di mixing univoche per ciascun servizio di miscelazione. Gli indirizzi di correnti le tariffe e le commissioni applicate o anche i pattern di ramificazione sono tutta una serie di dati utilizzabili per l'identificazione di uno specifico servizio di mixing.